Sabato Santo, 3 aprile, nella cattedrale di San Rufino sono proseguiti l'adorazione, il silenzio, il sostare a pregare con una presenza discreta di fedeli sempre nel rispetto delle norme anti-Covid. Nel pomeriggio si è tenuta la consueta benedizione dei cibi pasquali, in serata è seguita la veglia pasquale nella notte santa.